A voi tutti buonasera e bentrovati a Montemurlo Informa, la nostra rubrica di informazione e approfondimento dedicata al Comune di Montemurlo. Ripartiamo con la nostra trasmissione, siamo in compagnia del Sindaco Simone Calamai, buonasera Sindaco, ben trovato. Iniziamo questa puntata parlando di lavori e in particolare proseguono gli interventi su via di Cicenniano, interventi di messa in sicurezza della frana tra il ponte sul torrente Stregale e la villa La Petraia, facciamo un po' il punto della situazione e quali sono anche le tempistiche. Sì, questi sono lavori molto importanti per ricreare le condizioni di sicurezza di quel versante della nostra collina. Abbiamo purtroppo negli anni passati avuto una frana importante che ha riguardato quella parte di collina e soprattutto la strada via di Cicenniano, che è una strada importantissima per raggiungere quella zona collinare e soprattutto anche l'RSA che è presente a Cicenniano. I lavori sono in corso e devo dire stanno andando avanti, avanzando con rapidità e soprattutto con una qualità anche lavorativa da parte dell'azienda affidataria significativa e di questo siamo felici e siamo proprio nelle fasi che dovrebbero portare da qui a poche settimane alla riapertura della sede stradale nei due sensi, quindi sia in direzione Cicenniano che nella direzione Rocca. Questo per noi è importante, ovviamente non significa concludere l'intervento, ma significa ricreare condizioni di percorribilità della collina totali. Ovviamente richiederà l'intervento ancora altre settimane di lavoro per completare quelle che sono le sistemazioni, le finiture stradali, le sistemazioni dei muri di contenimento del versante, però ecco, diciamo una volta che la strada sarà riaperta, la gran parte del lavoro e soprattutto quello che è il cuore del lavoro che effettivamente è già terminato con la palificazione che è stata realizzata, insomma, sarà stato realizzato e soprattutto avrà messo in sicurezza da quello che era l'evento franoso tutta questa parte di collina, quindi siamo felici in questo senso. Insomma, sono in dirittura d'arrivo gli interventi. Cambiando un po' argomento, proseguono la distribuzione degli aiuti alle famiglie colpite dall'alluvione, grazie al contributo del Comitato Montemurlo Solidale, soprattutto alla tanta solidarietà che è arrivata da tantissimi cittadini, quindi anche qui adesso c'è la fase di distribuzione soprattutto di erettori domestici. Sì, noi abbiamo voluto in tutti i modi, a di là del fatto ovviamente che il nostro impegno è totale affinché Montemurlo riceva come gli altri territori colpiti i risarcimenti dei danni da parte dello Stato e del Governo necessari e doverosi nei confronti di una popolazione colpita, però accanto a questo impegno e a questo lavoro abbiamo voluto anche attraverso le associazioni e il Comitato Montemurlo Solidale fare qualcosa direttamente e questo lo stiamo facendo grazie alla grande solidarietà e alle donazioni che abbiamo ricevuto da tanti soggetti, sia privati che istituzionali e sono stati raccolti oltre 80 mila euro e devo dire in questi giorni è bello riuscire a dare questi buoni per l'acquisto degli elettrodomestici e non solo alle quasi 400 famiglie di Montemurlo che hanno presentato il questionario necessario per la ricognizione dei danni, quindi è per noi un modo per stare accanto a queste famiglie ovviamente con un primo sostegno, però questo non esclude ovviamente che i risarcimenti veri e propri dovranno arrivare da parte dello Stato e noi stiamo facendo tutto quello che è il nostro potere affinché arrivino quanto prima, in questo senso sapete ci sono le buone notizie che la Regione ha diffuso in relazione ai primi rimborsi forfettari, però ecco dobbiamo continuare su questa strada affinché chi ha subito questa tragedia possa almeno recuperare parte di quanto ha perso. Continuando a parlare di alluvione e da una parte insomma di cose belle, diciamo prosegue la distribuzione anche dei libri che sono stati donati dal comune di Borgo San Lorenzo ai nidi del territorio. Sì, questa è una cosa bellissima, devo dire mi è piaciuta ed è stato veramente bello che un comune come il comune di Borgo San Lorenzo abbia pensato a noi, abbia pensato alla comunità di Montemurlo e insomma nel proprio comune abbia raccolto questo numero così importante di pubblicazioni, di libri per bambini da destinare ai nostri asili, alle nostre scuole dell'infanzia. Sono stati distribuiti proprio in questi giorni, abbiamo avuto qui la vice sindaca nei giorni passati e devo dire che questa è dimostrazione proprio comunque di tanta solidarietà e di tanta attenzione che abbiamo comunque registrato in questa tragedia. Ecco la tragedia è stata ovviamente una pagina nera per tutti noi, però in questa pagina nera e buia abbiamo anche riscontrato veramente la voglia di esserci e di dare una mano da parte di tante persone anche distanti da Montemurlo e questo insomma ci fa ben sperare per il futuro e penso sia un bel segnale rispetto a quelli che devono essere i valori che ci devono animare tutti. Per chiudere il capitolo dell'alluvione parliamo proprio delle sommergenze, in particolare degli interventi in corso alla palestra di Oste per ripristinare soprattutto il parquet, il manto di gioco era andato completamente distrutto dalla furia dell'acqua, qui a che punto sono gli interventi e poi c'è stato anche da poco un incontro con il Montemurlo Basket? Sì, noi abbiamo numerosi interventi in corso, devo dire uno di questi è proprio quello che riguarda Palazzetto dello Sport, stiamo andando con la massima velocità possibile alla sua riapertura, abbiamo dovuto aspettare nelle ultime settimane che si ricreassero le condizioni di umidità del sottofondo, finalmente insomma ora possiamo andare a posare il nuovo parquet, questo per noi è un intervento strategico perché sì, significa restituire un palazzetto dello sport a tutti i suoi ragazzi, alle due scuole che lo usano, il liceo Brunellischi e la scuola primaria Anna Franche, ma significa restituirlo anche a tante associazioni tra cui Montemurlo Basket dove lì hanno casa e vivono di sport, insomma momenti di benessere all'insegno ovviamente dello stare insieme e dello sport e quindi ecco siamo in procinto di terminare le lavorazioni che dovremo insomma completare nella metà del mese di marzo, non appena sarà completato lo restituiremo a tutti, anzi lo vorremmo fare con un momento anche unificante di comunità che riguardi lo sport e che riguardi tutti i ragazzi che lo devono vivere. Perché sono tantissimi appunto i ragazzi che ci vanno tutti i giorni, insomma che ci andavano fino a poco tempo? Sì, io penso ci sia una popolazione solo scolastica, insomma di diverse centinaia di ragazzi, più ci sono circa 200 iscritti nella Montemurlo Basket e quindi davvero è un patrimonio degli adolescenti di Montemurlo, di tanti giovani, ragazzi e anche bambini che insomma non vediamo l'ora di poter restituire come abbiamo fatto a gennaio con la scuola dell'infanzia di Piazza Mendola Oste. Anche lì ci sono stati lavori in tempi record per ripristinare completamente insomma la scuola? Sì, lì l'umidità, ci ha consentito veramente di lavorare a tempi record, devo dire insomma aver terminato le vacanze di Natale, aver restituito la scuola è stata una bella soddisfazione, soprattutto è stato bello in quei giorni vedere gli occhi sorridenti dei bambini che erano rientrati nelle loro aule. Chiudendo parliamo di sport, in questi giorni qui a Montemurlo c'è il Melbourne City allenato da un pratese a Lino Diamanti, insomma una bella soddisfazione intanto per voi averle qui che proprio si allenano qui sul territorio montemurlese. Sì, è una bellissima soddisfazione Diamanti, un grande sportivo, grande calciatore, oggi grande allenatore, averlo qui a Montemurlo con i suoi ragazzi, insomma del Melbourne City è per noi insomma ovviamente orgoglio, ma è dimostrazione penso di un lavoro che abbiamo voluto portare avanti sullo sport e sul calcio, in questo caso, che ha dato i suoi frutti in questi anni. Noi qualche anno fa eravamo preoccupati sul come si faceva sport e sul come si faceva calcio nel nostro comune, abbiamo creduto fermamente di trovare delle soluzioni e devo dire con la nuova gestione e con quello che è oggi il Montemurlo calcio sappiamo nel nostro Nelli, rinnovato anche da un nuovo manto sintetico, completamente rifatto, è davvero un luogo di riferimento per tanti giovani, per tanti bambini montemurlesi dove imparano a giocare a calcio, ma imparano soprattutto a stare insieme, a fare squadra, a rispettarsi l'un con l'altro e quindi vivono insomma momenti positivi e quello che volevamo e avere qui diamanti insomma è dovuto anche a questo e quindi siamo assolutamente felici. Una scelta insomma non a caso quella di venire qui a Montemurlo per prepararsi poi per il torneo di Viareggio. Esatto, esatto. E qui a Montemurlo poi sono, restando in tema di sport, comunque sono tante le eccellenze montemurlesi in ambito sportivo insomma che portano avanti il nome di Montemurlo e lo fanno conoscere in tutto il mondo. Sì, noi andiamo orgogliosi di questa cosa perché ovviamente Montemurlo ha dato insomma tanti sportivi a livello nazionale, a livello internazionale senza fare torta a nessuno insomma nomino solo dalla porta, innocenti che hanno veramente portato il colore bianco rosso di Montemurlo nel mondo ma siamo felici di averne veramente tantissimi altri esempi anche straordinari penso a Lucchini, penso a Giagnoni, quindi davvero Montemurlo ha dato tanto e avrà modo ancora di dare tanto perché so insomma di tanti bambini che stanno dimostrando la loro eccellenza in tanti sport, sport insomma a 360 gradi. Ci sono tante nuove promesse, io ringrazio davvero il sindaco per essere stato con noi, grazie sindaco, buon lavoro. Grazie, grazie. E a tutti voi grazie per averci seguito, ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo appuntamento di Montemurlo in forma, arrivederci. Grazie a tutti.